Allora, voglio ringraziare tutti al sindaco, al sindaco della città comunale di Cattoria, il siano nomi che lo parlo a nome dell'RSU di Nolla, di Simpigion di Guida. Io stamattina, noi stamattina, che siamo una delegazione, non siamo venuti a portare la solidarietà, come si dice, come si usa in questi tangenti. Noi siamo parte integrante di Alemio, noi ci riconosciamo in dei quattro stabilimenti di Alemio in Campania, quindi la nostra non è soltanto una vendata per farci vedere, ma noi ci sentiamo parte integrante di Alemio di Cattoria. Stamattina, stamattina siamo venuti con il mogul, ma come? Ci sentivamo un po' strani, ci trovavamo dove dobbiamo andare a salvare una cosa cristiana e i bianchi, a portare anche la nostra faccia e per dire una cosa. Noi leggi siamo stati anche al comune di Pogigliano, dove c'era un partenco eccezionale, ci passava da consiglieri regionali, assessori regionali, persone politici che hanno una grande responsabilità. E il mio appello di stamattina è quello di, è quello che ho detto anche il vescovo di Nolla, svegliatevi, ma svegliatevi non è in un senso totale per dire una parola, ma io sto chiedendo aiuto, aiutiamo, aiutiamo non solo, in questo momento Cattoria che vive una grande difficoltà per scelte che non condividiamo con il managgimento aziendale, perché dovete sapere, signori, che noi in questo momento è un parco di lavoro abbastanza dotevole, però è un fatto emblematico. Con la venuta di altri colleghi da appesiti, vivremo la stessa situazione di Cattoria. Se i lavoratori di Cattoria dovessero, e noi non ce l'auguriamo, venire a Cattoria, tra un anno, due anni, e questo è meglio lo sapete, è quello che stiamo facendo noi, avremo lo stesso potere che stavendo per noi, perché devientiamo di stabilimenti, di persone in eccellenza, e dopo due anni andremo ad affrontare un altro piano di distrutturazione. Questa è una cosa che poi adesso, anche lo più le pubbliche è difficile comprendere, perché quando si dà il fatto ai giornalisti che il sito di Cattoria smette, però che uno perderà il posto di lavoro, è una bugia, perché se non lo prenderà, 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 quindi il problema è soltanto rimandato. Noi saremo, per fin termine, noi saremo a fianco di tutti i lavoratori, perché non mi penso, il problema non è solo di Cattoria, ma il problema non è solo di Cattoria, perché adesso ce l'abbiamo poi in testa, perché questo è una catena, è solo l'inizio, e allora voi, io lo chiedo proprio accoratamente, voi avete il dovere, il compito e anche l'autorevolezza di difendere adesso Cattoria, domani Comignano, quattro giorni o no, avete il dovere, e poi un'altra cosa è poi termine, guardate, noi non è una battaglia per dire la sede legale, signori politici, è la sede legale, la sede legale anche i giornali, adesso la stanno trattando, se non sapere, è il numero di merito, no, vedete bene, informatevi che la sede legale è fondamentale per un'azienda, prego come si meccanica, è fondamentale, quindi le energie del centro-destra e del centro-sinistra, unitevi insieme, unitevi e date una risposta a noi lavoratori che ce la mettiamo, grazie.